Tragica svolta! È appena morto! Prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Nell'episodio di Estate in diretta, dedicato a Gianluca Semprini e Nunzia de Girolamo, si è reso necessario condividere una dolorosa notizia in tempo reale e i due presentatori hanno dovuto affrontarla con il cuore pesante, consci della complessità che comporta diffondere simili informazioni. In quell'occasione hanno dichiarato che dopo un periodo di sofferenza e lotta tra la vitalità e il passaggio all'aldilà nelle ore passate, Luigi Puccini ha concluso il suo percorso terreno. Il conduttore Gianluca Semprini ha reso noto che le prospettive di recupero erano estremamente limitate e, alla fine, Luigi Puccini non è riuscito a superare questa difficile sfida. Il pensionato ha lasciato questa vita proprio nel giorno di Ferragosto. Il volto noto di Raiuno ha seguito attentamente l'evolversi di questo triste episodio fin dall'inizio e ha catturato anche le parole pronunciate dalla consorte. Il presentatore di Estate in diretta, Gianluca Semprini, insieme a Nunzia de Girolamo, ha quindi sintetizzato in breve chi sia stato a porre fine alla vita di Luigi Puccini. L'uomo stava seduto in un caffè nella provincia di Lucca, ad Alto Pascio, mentre gustava il suo cappuccino con una brioche. Lungo il suo cammino si è incrociato con una coppia, da cui si è scatenato il dramma, secondo quanto riportato dalle ricostruzioni di alcune testimonianze. Il giovane, convinto che l'uomo avesse guardato in modo indiscreto la sua compagna, si è avvicinato a lui per chiedere spiegazioni. In risposta, Puccini si è alzato per avere una visione più chiara ed è stato coinvolto in un'animata discussione. Subito dopo, è entrato in uno stato di coma che è durato alcuni giorni, prima di spegnersi definitivamente a Ferragosto.